Via dell'amore, il sentiero scavato nella roccia che collega attraverso uno scenario naturale unico, Rio Maggiore e Manarola, è da oggi aperto al pubblico. L'intervento di consolidamento del tracciato ha richiesto tempo e investimenti notevoli, ma ne valeva certamente la pena. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. A qualcuno il recupero ha fatto storcere il naso, ma i consensi superano di gran lunga i pareri negativi. Oggi si guarda soprattutto alla nuova via dell'amore per rilanciare, in questa estate un po' fiacca anche a causa della stangata sui biglietti ferroviari, la stagione turistica. Per ora invece imperversano solo le polemiche sul costo del biglietto d'ingresso e l'apertura gratuita della strada agli abitanti dell'intera provincia, solo dalle ore 17. Una decisione contestata aspramente dal presidente della provincia, ma anche da molti sindaci. Tutti accusano il comune di Rio Maggiore di voler solo fare cassa, mentre sarebbe necessaria una decisione condivisa con l'intero territorio provinciale. Fare cassa sembra in effetti in questo momento il vero obiettivo. Sì, perché l'ingresso a via del lavoro costerà ai turisti 10 euro in più, un balzello che sommato al costo salatissimo dei biglietti ferroviari e al prezzo della car del parco peserà certamente sulle tasche degli ospiti. Giustificate quindi le preoccupazioni degli operatori turistici che alle polemiche di questi giorni preferirebbero una operazione mediatica a livello internazionale per ridare slancio alle cinque terre che rischiano seri contraccolpi proprio per il costo dei servizi. Bene ha fatto, secondo noi, il presidente della provincia a puntare i piedi sul libero accesso al sentiero a tutti gli spezzini. In tutta questa vicenda è mancata invece la voce del Parco Nazionale. Il suo ruolo dovrebbe essere quello di coordinare il territorio che rappresenta. I comuni invece sembrano marciare in ordine sparso, specie quando in gioco ci sono partite come quelle di via dell'amore.